Ciao, sono Tony Cuccaro. Proviamo a fare sette posizioni della scala a modo naturale in tonalità di Do maggiore relative a La minore. Prima posizione. La ripeto veloce. Seconda posizione. La ripeto veloce. Terza posizione. La ripeto veloce. Quarta posizione. La ripeto veloce. Quinta posizione. La ripeto veloce. Sesta posizione. La ripeto veloce. Settima posizione. La ripeto veloce. Poi si riprende dalla prima e si va in su. A questo punto potete iniziare a improvvisare. La ripeto veloce. La ripeto veloce. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.